una canzone che è molto bella perché è un po' in inglese e un po' in arabo Yalla, sì, che significa andiamo ed è praticamente la lettera che io scrivo ai miei fan per l'appunto in cui dico loro che adesso possiamo iniziare questo progetto insieme quindi andiamo, esatto e parlo di questa ragazza che scopre una forza interiore perché comunque avendo vissuto tutte queste situazioni in un modo o nell'altro ti rimane un po' di insicurezza dentro, ecco, quindi ho dovuto lavorare anche su questo perché comunque andavo in studio, mi ritrovavo davanti alle persone e cantare non mi fermavo, mi bloccavo e tutto questo è legato alle insicurezze che io mi sono portata dietro nel corso della mia vita Allora, il tuo nome Bushra significa buona notizia la tua canzone si chiama Yalla, andiamo e allora cara Bushra, andiamo a cantare perché la tua canzone contiene questo messaggio, questo bello che vogliamo dedicare a tutte le donne Mishra 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 Grazie.